Un annuncio durato poche ore su cui l'Humanitas di Rozzano ha deciso di fare subito marcia indietro, quello che la struttura gioiello del sud Milano non si sarebbe più occupata di curare i malati cronici. L'Istituto Clinico Humanitas ha cambiato idea sul servizio di gestione del percorso pazienti cronici, così come era stato chiamato, e diversamente da quanto annunciato lo proseguirà regolarmente anche per il 2022. Un dietro front rispetto alla precedente comunicazione che annunciava che a partire dal 31 dicembre 2021 Humanitas avrebbe lasciato la rete dei centri lombardi dedicati alla gestione del percorso pazienti cronici. Una comunicazione che aveva preoccupato i pazienti inseriti nel percorso a cui la struttura raccomandava di rivolgersi quanto prima al medico di medicina generale. L'annuncio della casa di cura privata, ora rettificato, aveva sollevato l'attacco del Movimento 5 Stelle. Lombardia abbiamo appreso da una comunicazione ufficiale di Humanitas che dal 2022 l'azienda ospedaliera non ha più intenzione di seguire i malati cronici. In Lombardia ha scritto il consigliere membro dell'ufficio di presidenza della Commissione Sanità Gregorio Mammi. È una decisione molto grave perché lascia migliaia di pazienti senza un punto di riferimento importante per il Sud Milano, ma soprattutto perché mette in dubbio i principi stessi su cui si fonda la riforma sanitaria lombarda. Se il pubblico e il privato hanno gli stessi diritti e doveri, aveva detto Mammi, come mai un'azienda privata può decidere di non effettuare più un servizio per i pazienti cronici che in Lombardia sono 3 milioni e mezzo? Domani i privati potranno scegliere quali cure offrire ai cittadini senza un controllo pubblico? Tutte preoccupazioni che il dietrofront di Humanitas ha lasciato cadere. Grazie a tutti.